Telenova Giornale Telenova Giornale Le indagini in atto della squadra mobile di Ragusa sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Modica e dalla DDA di Catania. L'inchiesta è partita nel marzo del 2009 a proposito dello sbarco che avvenne esattamente il 27 marzo del 2009 a largo di Pozzallo. In un primo momento l'inchiesta era diretta dal vicequestore della squadra mobile Francesco Morino ed è stata avviata dalla Procura di Modica ma è poi approdata alla DDA di Catania. Sono almeno 10 i trasferimenti di immigrati dal paese italiano verso il nord Europa e la Francia. La Procura distrettuale di Catania ha individuato le responsabilità di 48 cittadini somali mentre quella di Firenze ne ha incastrato altri 7. Le attività sul territorio sono culminate con gli arresti che sono in corso di esecuzione condotte dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, dalla squadra mobile di Ragusa, dal Gico della Guardia di Finanza e dal nucleo di Polizia Tributaria delle Fiamme Gialle di Firenze. I viaggi dei migranti costavano tra i 15.000 e i 16.000 euro. Secondo il Procuratore nazionale antimafia Giusto Sciacchitano l'inchiesta ha portato a risultati importanti partendo da diversi spunti investigativi, uno sbarco di migranti da un lato, un traffico di rifiuti dall'altro. L'ufficiale verificatore ha consegnato la relazione ai giudici del Tarri Catania. Il riconteggio delle schede contestate dei due candidati a sindaco di Santa Croce è stato ultimato. Adesso si attende la sentenza definitiva in programma domani. I giudici della quarta sezione del Tarri Catania potrebbero anche ribaltare l'esiti elettorale che ha sancito la vittoria di Franca Jurato per soli tre voti di scarto. Alla prova di resistenza, dopo la verificazione, potrebbe essere accolto il ricorso di Giovanni Barone, candidato a sindaco della lista Noi ci crediamo. Si attende quindi la sentenza del 17 gennaio, dove il ricorso presentato da Giovanni Barone, il sindaco Franca Jurato e i componenti della lista Il Paese che vogliamo, hanno presentato un ricorso incidentale contestando numerose eccezioni di inammissibilità del ricorso proposto dallo stesso Barone. Il primo cittadino di Santa Croce è assistito dall'avvocato Giovanni Mania del Foro di Catania, Barone è assistito dal legale Alessa Giorgianni del Foro di Messina. Si fa la conta dei danni all'indomani della violenta grandinata che ha distrutto decine di impianti serricoli tra Punta Braccetto, Punta Secca e Vittoria. I chicchi di grandina hanno lacerato la plastica e raffreddato le culture in piena produzione. Per l'agricoltura ragusana della fascia trasformata, l'ennesima scure che si abbatte su un'annata agraria già gravemente compromessa. Il gruppo agricoltore di Santa Croce invita le aziende a segnalare i danni all'ispettorato. Chiedere un intervento risarcitorio e prematuro, spiega Guglielmo Chipinti. Si tratta nella maggior parte dei casi di danni che dovevano essere risarciti dalle polizie assicurative. È chiaro che nella maggior parte dei casi le aziende non hanno alcuna copertura. Chiederemo, semmai, di sospendere i contributi previdenziali previsti. Nella zona di Punta Braccetto i danni quantificati superano i 100.000 euro. I funzionali dell'ispettorato all'agricoltura e della condotta agraria di Vittoria hanno avviato le prime verifiche sul campo. Stiamo raccogliendo le segnalazioni grazie al lavoro svolto dalla condotta agraria dei funzionari, spiega il dirigente Giorgio Carpensano. La maggior parte dei danni rientrano nel cosiddetto piano assicurativo nazionale previsto dalla legge. Il Comitato Nomuos Ipparino esprime piena solidarietà agli indigenti del Comune di Ragusa che da 21 giorni presidiano l'ingresso del Palazzo Comunale del Capoluogo. Anche noi siamo impegnati da molte settimane a presidiare a notte e giorno il cantiere del Muos Niscemi e sappiamo bene quanto costi, in termini di sacrifici, garantire la presenza degli attivisti 24 ore su 24. Ciò nonostante, scrivono i rappresentanti del Comitato Nomuos, la protesta non farà un solo passo indietro sino a quando non verranno bloccati i lavori del Muos. E sappiamo che anche il movimento degli indigenti di Ragusa continuerà il presidio ad oltranza sino a quando non verrà garantito loro il diritto al lavoro. La crisi non deve fermare la solidarietà, soprattutto se con il costo di soli 10 euro si possono aiutare tanti bambini, Franca Sclinato. Un appuntamento è rinunciabile perché soprattutto si compie un compleanno importante, 10 anni. Quest'anno compiamo appunto 10 anni da quando abbiamo fondato la nostra associazione. Sembrava uno scherzo, quasi per gioco e con una sera in un terrazzo, parlando, padrenato, e se fondiamo questa associazione, io pensavo che avrebbe avuto un limite di tempo e invece, guardate, dopo 10 anni un po' tutti i racusani sanno quello che abbiamo realizzato ambulatorio, reparto maternità, pozzi, scuole, liceo. Però quest'anno è un anno particolarmente importante, infatti abbiamo rimandato l'appuntamento solito natalizio al 20 gennaio perché come tutti gli anni viene il padre Bruno che è il nostro missionario. Ma ecco, proprio quest'anno che compiamo 10 anni, lui ci parlerà di un grande, grandissimo progetto. Abbiamo costruito, abbiamo iniziato a costruire un enorme ospedale in una città che si chiama Majang, che è circa tre ore distrata dalla nostra missione, quindi servirà a tutto il circondario. Un ospedale enorme per il quale stanno però anche lavorando un gruppo di medici di Modena che sono già lì in loco e soprattutto ortopedici che operano i bambini che per malnutrizione nascono con i pedini storti, hanno problemi e quindi dire che siamo orgogliosi di un'opera così grande, di un progetto così grande, forse dire poco perché non avremmo mai pensato 10 anni fa di poter realizzare un ospedale del genere. Intanto diamo delle notizie importanti, quindi domenica 20 gennaio a Villa Criscione, alle ore 18 inizia il buffet e come sempre c'è anche questo mercatino dell'artigianato C'è il mercatino, anche se non è Natale, però qualche oggettino sempre lo venderemo, c'è un bel gruppo che si chiama Pinguini in Fracchi, li abbiamo già fatti esibili a Catania a Natale, sono molto carini, faranno swing, ma soprattutto, e ripeto, è un attimo importante per questo progetto di cui ci parlerà Padre Bruno, quindi mi farebbe piacere se lo attorniassimo in tantissimi amici, tantissime persone perché ha bisogno anche di questo nel suo lavoro. Netta vittoria dell'Oxain Ragusa nel campionato di volle di Serie B contro il Vibo Valencia. La formazione iblea, allenata da Manuel Benassi, è attesa dalla trasferta di Catania. Sì, è stato un buon momento. Venivamo da una sconfitta amara a Trapani perché vincere 2-0, perdere 3-2 con quei parziali, e soprattutto perdere un quarto set in vantaggio di 6 punti, per noi è stata a livello psicologico una batosta e si è visto anche in quest'ultima partita in casa, infatti non eravamo con la testa nella partita. Fortunatamente il Vibo è una squadra di ragazzini con poca esperienza, sono ultimi in classifica e quindi siamo riusciti a spuntarla ugualmente. Adesso però andremo ad affrontare una squadra di esperienza dove gioca gente come Sudano, come D'Angelo, gente con molta esperienza, quindi sicuramente non ci possiamo permettere di affrontare la partita nel modo in cui l'abbiamo affrontato con Vibo. Sì perché siamo arrivati all'ultima giornata del girone di andata a 3 punti dalle prime in classifica, questo è un risultato che all'inizio della stagione era assolutamente impensabile. Chiudiamo il girone di andata con una partita mi avviso molto difficile perché giochiamo con la coordinator di Catania, è una squadra molto rognosa, tanti giocatori di esperienza. Bisognerà vincere a tutti i costi per cercare di sfruttare pure un turno che vede lo scontro diretto tra Leonforte e Lamezia, potrebbe anche essere un turno favorevole a noi, potremmo guadagnare qualche punto sulla prima squadra in classifica appunto in Lamezia. Dopodiché ci godiamo due settimane di riposo e riprenderà il girone di ritorno con la partita con il Reggio Calabria che è una delle poche squadre che fino a qua ci ha abbattuto e abbiamo tanta voglia di vendicare quella sconfitta che ancora brucia.